Il punto della situazione è che comunque il Comune di Cividale da sempre segue tramite un'apposita ditta specializzata la gestione del servizio di deratizzazione. Emergenza topi a Cividale del Friuli. Da alcuni giorni segnalata la presenza dei piccoli roditori nel centro della città ducale, i quali dai tombini della rete fognaria sbucano in superficie e scorazzano lungo e largo i tavolini dei locali pubblici davanti agli occhi increduli dei residenti e turisti. Il Comune ha da tempo avviato una campagna di deratizzazione per contrastare il fenomeno e si è già trovato il punto in cui questi nidificano. L'area della pertinenza della già caserma Francescato in Borgo San Pietro, struttura in fase di riqualificazione urbana dopo la sua dismissione in chiave militare, è del vicino depuratore nei pressi del ponte sul Natisone, due luoghi dove il proliferare dei ratti si moltiplica a dismisura. A questi poi si somma la presenza dei bidoni e cassonetti dei rifiuti, altro punto di ritrovo abitudinale dei roditori. L'amministrazione comunale, l'acquedotto Poiana, al lavoro per ridurre in tempi brevi la sgradita presenza. Questo è stato coinvolto fin da subito anche l'acquedotto Poiana, la cui sede è proprio di rimpettaia rispetto alla caserma Francescato. Già nel sopraluogo di domani cercheremo di verificare se ci sono effettivamente dei collegamenti, delle condotte che possono agevolare questi roditori. e cercheremo di capire con un'azione congiunta tra comune, acquedotto Poiana e anche i privati quale sia la soluzione migliore al caso specifico.